Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi voglio portare un video sulla blockchain di Telos. Quella di Telos è infatti una blockchain che ha anche una parte EVM compatibile, come vedremo dopo, che sta riscontrando una forte crescita in quest'ultimo periodo, sia in termini di adozione che di conseguenza anche in termini di total value locked. Brevemente infatti Telos è una blockchain suddivisa in due parti principali. La prima è una parte EVM compatibile, quindi basata sulla Ethereum Virtual Machine e dunque che esegue codice in solidity. La seconda parte invece è la parte cosiddetta nativa di Telos che si basa su EOS.io e che come linguaggio ha invece il C++. Questo perché la blockchain di Telos in generale è proprio basata su EOS. Nel video di oggi mi voglio soprattutto concentrare sulla parte EVM compatibile. Per settare Metamask sulla blockchain di Telos, la parte EVM, ci basterà inserire i dati che ci vengono riportati qua. Parlando di caratteristiche di questa blockchain, è veloce e scalabile. Infatti permette di raggiungere circa 10.000 transazioni al secondo. Ha delle gas fees molto basse per la parte EVM e inesistenti, proprio assenti del tutto, per la parte basata su EOS.io. E poi vabbè si definisce decentralizzata, eco-friendly, incentrata sulla community e una blockchain che non permette il front running. Anche se questo aspetto io non l'ho approfondito. Sempre sul loro sito ci viene proposto questo paragone fra la blockchain di Telos, quella di Cardano, quella di Matic e quella di Ethereum. E in sostanza riprende un po' tutte le caratteristiche che abbiamo appena visto. Parlando del token, Telos ha un token, T-LOS, che recentemente è salito tanto. Infatti l'ultima settimana ha praticamente raddoppiato, passando da un prezzo di circa 55 centesimi all'attuale 1 dollaro e 10 centesimi. Per quanto riguarda le tokenomics, Telos ha al momento una supply fissa di 355 milioni e una supply in circolazione di 243 milioni. Al momento ci viene detto che l'inflazione è dello 0% anche se la potrebbero aumentare in futuro. Per ogni mese ci sono delle nuove monete che entrano in circolazione nel mercato e queste ammontano a 4,1 milioni. E la ripartizione viene descritta qua nell'articolo sulle tokenomics. Infatti come vedete vanno nel dettaglio su dove finiscono i nuovi Telos immessi nel mercato. Per quanto riguarda il total value locked, Tezos è attualmente al 26esimo posto con un total value locked di circa 180 milioni. E come potete vedere un notevole incremento negli ultimi giorni. Qua ci viene anche riportata la distribuzione fra i protocolli. I principali protocolli in DeFi infatti sono Omnidex che come possiamo intuire dal nome è un DEX e SushiSwap che è anche deployato su Telos. Su SushiSwap ancora non è disponibile la pagina con le varie farm quindi al momento non vi so dire gli APR. Cosa che però è presente per Omnidex infatti oltre alla sezione per il trade e ovviamente quella per andare ad aggiungere liquidità abbiamo la sezione di farm che come potete vedere offre dei rendimenti interessanti. A partire da Telos USDC con 284 di APR fino ad arrivare a USDC USDT con un 50% di APR. Altre pulli interessanti a mio avviso sono Phantom Telos 235 di APR, Telos Ethereum 269% e Bitcoin Telos 283%. Il token che si viene guadagnato depositando in queste farm i nostri LP è il token proprietario della fiattaforma ossia Charm che può essere messo in staking qua per un 1000% di APR. Nonostante questo però a me come token non piace proprio perché è un'inflazione veramente molto marcata. Infine ci tengo a ricordarvi che nulla di tutto ciò che trovate nei miei video costituisce un consiglio finanziario ma anzi sono appunto solo video a scopo informativo. Detto questo per brigiare i nostri asset da altre chain alla blockchain di Telos abbiamo essenzialmente due modi. O da Ethereum passando tramite multichain cosa che però non è evidente da Telegas Fiso oppure utilizzando Egg Finance. Finance che per chi non lo conoscesse o non sapesse come utilizzarlo vi rimando al video che ho fatto a questo proposito permette di brigiare da qualsiasi di queste chain che sono 16 al momento a Telos. Questo chiaramente brigiando i token Elk ma dando comunque l'opzione di swappare un Elk per Telgas e quindi ritrovandoci anche dei Telos direttamente sul nostro Metamask sincronizzato alla blockchain di Telos. Ma appunto per le spiegazioni più dettagliate su Elk Finance vi rimando al mio video. Per questa brevissima introduzione alla blockchain di Telos da parte mia era tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile e se fosse stato così beh mi raccomando lasciate un bel mi piace per sostenere il canale. Detto questo io vi ringrazio per la visione, vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video.